Attenzione, treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 78-71 DAB, proveniente da via di Monte Matese, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 16.57, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a mattina.